Una storia vera. Dimmi che succede, dove sono mamma e Ethan? Sette giorni di follia. I figli di Christina Anderson sono scompersi. Perché avrebbe fatto questo? Una gigantesca caccia all'uomo. Partiamo subito per l'Idao. Ecco dove abbiamo avvistato il carro. Per il ciclo Dalla parte delle donne. In prima tv, rapita. La storia di Anna Anderson. Martedì, 21.15. Rete 4. Rete 5.